...ma trovi i pakistani, trovi i rakeni, trovi la Turchia, di Qatar ma non ci parliamo adesso purtroppo, l'ultimo due mesi, abbiamo un sacco di egiziani ma un sacco, in Giordania hanno... quindi anche dall'Egitto stanno arrivando i copti non egiziani, stiamo parlando di kamikaze ah, non avevo capito ah, quindi anche dall'Egitto stanno arrivando i guerrieri dell'Egillage ma i seriani che sono contro il governo non arrivano al 20% perché se arrivano più di così già il governo...